Oggi, gare. Bene, siamo tantissimi a fare questa gara. Speriamo. Siamo in due. Eh già. Dopo un'ora di tempo siamo riusciti a trovare un'altra persona. Davide a noi due. In realtà no. Sì. Davide, Davide laggi? Sono in lezzo. Hai laggato un po'. Come laggi? Non è vero. Ho visto la tua auto che faceva volunto. Davide, se hai tagliato ti fai schifo. Io non taglio. Sono onesto quando faccio la gara. Anch'io non l'ho beccato, tranquillo. Stagaro fa schifo. Sì, sì, fa schifo, fa schifo. È proprio brutta. Ci sono cose a caso, senza ordine logico. E poi si può saltare tutto, praticamente. Occhio quando fai il salto. Quel salto. Quale salto? Il salto che appena ho fatto. Sono uscito fuori. Andavi in fretta e fuori. No, ti volevo stare da vasi almeno. C'è un lezzo. Rekt. Stuz. Seconda gara. Qua c'è un po' di gente. Dobbiamo buttare giù quelli con le moto. Con le moto, certo. Perché prendere le moto è facile. Perché è più veloce, più scattante, raktiva. Però noi potremmo usare la forza brutta. Un po' come il livello di Crash Bandicoot con le auto. Crash era sulla moto. Vedete, ogni volta più buttavano fuori quelli con le auto. Sono appena diventato una tartaruga. Sì, ma queste qua girano subito. C'è la prima fai. Derapano un bot. Sì. Ma tanto ormai ci siamo abituati. Anche il video di Brawl Allas è beccato il copyright. Per cosa, scusa? Per la musica, quella epica, alla fine. Ah, ma va bene. Da finché sono solo per gustare. Sì, ma te quante volte ti sei ribantato in questa gara? Ma qualcuno. Di costantemente. In che posizione sei? Qui, qui. Te? Terzo. Però davanti mi sembra di avere due moto. Forse non due moto. No, una macchina. Ok, ora siamo dietro di te. Ma io sono quello giallo. No, c'è una macchina, però. Non prendere la scia, stabile, che vuoi. Stavo per prendere la palla, oltre? No, non è vero, l'avrei fatto. Ma non volevo. Perché dobbiamo collaborare con le scie per raggiungerli. Scuso, l'ho fatto apposta. Questo l'ha fatto apposta un bot. Sì. L'ha buttato fuori in una maniera cattivissima. Proprio l'ha fatto... Cavolo. Come l'ha preso del dito muxi, mi affittando. Per sconfiggere il timing. Altrimenti letta timing. Come direzione sbagliata? No, 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 no. Cosa l'ho fatto? Bene. Ma no, è giusto. Ho soltato un check. Cioè io continuavo tutto tranquillo. Ed eccoci. Terza. La terza gara. Vai, vai, vai. Stavolta la vinco. Dai, dai. Hai preso la pariglia? Certo. È una scheggia. No, Natale. È come citare, prendere quest'auto. È veramente velocissimo. Ma che posizione sei? Sono già terza. Allora sei lì, ma sei l'auto rossa. No, è blu. Con la striscia bianca. Questo qua... Era in mezzo ai coglioni. Poverino. Sì, vabbè. Ciao, universo. Occhio nel tunnel a non prendere troppa velocità, sennò finisci... ...su giove. Quella è andata a finire su Joe. Porca puttana, ma che cazzo è successo? Mi ha caduto un chizzo sopra di me e mi ha fatto saltare in aria, non so con quale fisica. E sono caduto fuori. Con la fisica dei giardinetti, Davide. Giusto, la fisica. Seconda volta che cado per colpa dei... ...delle avversarie. E sono decimo. Non ho parole. Quante aveste gare non sembrano proprio nuove. Le chiamano nuove. Saranno nuove. Secondo me è scamming. Ma ovvio che è scamming. Ti pare che quelli della Rockstar non scammino? E sono il nuovo ultimo. Ah, io ho il camioncino personalizzato. Sei l'unico che ce l'ha personalizzato. Sono quello che vincerà, allora. Poteva saltare, come mi ricordo? Sì. No. Cioè, il tuo può saltare e il mio no. Ah, non può saltare il tuo. Com'è che salti? L3. No, non può saltare. Vabbè, il fatto non serviva niente, che salti. Comunque li hanno spedito fuori. Sono bellissime queste cunezze. Ma non è vero. Staccare particolarmente più. Ma poi com'è che girano? Cioè, girano come i quad in una maniera stranissima. Ok. Ah, si fanno i frontali qua. Già. Sono il primo. E io ho scommesso subito. Ah, sei triste. Sì, sì. Sì, però non è giusto che tessi più veloci. Perché no? Ecco, sono già strassi. Cioè, adesso è il secondo di giro, seriamente? Sì, è il cara, sì. Oh, meno di tre giri non si poteva mettere. Forse questa gara è nuova, dai. Forse. Sì, è nuova, dai. Il secondo di non è giusto che sia un calcio. Il secondo di non è giusto, cioè un calcio. Bello, è il secondo di non è giusto. È in más o meno. Il secondo di non è giusto. È in più. È in più. Ho fatto un frontale Come è bene Sta gara è noiosissima No dov'è che vedi che è noioso No No ti ho visto mi è superato Vabbè c'è la radio che ti tiene compagnia Ah no non la puoi mettere se ho No io ce l'ho mai Non mi interessa No avremo una lista bellissima Per me Perché ho sbandato qua Ciao Nathan Eh ciao un paio di Eh giusto pensi è più veloce Che poi hanno aggiunto anche recentemente delle nuove stazioni radio Quasi finita è sta sto abominio Come abominio È bellissima Tutto ciò che fa la rockstar è perfetto No che succede No 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 Che cose ho visto Che ero per il game all'inizio È la nostra gara preferita Davide Non carenta Ah, ha le cose per scassare ai lati Cioè la Certo Ma non cambia nulla perché se vai al centro Fai la stessa velocità Eh, se è più veloce Boh, sì Oh, se mi facevano Beh, io sono diventato una tartaruga Come fa schifo, è bellissima Ah, vabbè, siamo già al secondo Ah, penso un po' che di default mi metteva sette giri per stagare Sette giorni Sette Sette giorni Numero massimo di ogni cosa Permesso, permesso Però scontratamente il checkpoint lo prendi da un Sì, almeno qui No, no, ma chi è questo qua che deve fare Casino Ciao, Nathan Ciao, Nathan Ciao, Davide È l'ultimo giro questo Bisogna fare lo sgassing finale Non mi tirare fuori, Davide È viola Ma ci ha lavorato tantissimo No, 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 sì, sì, sì Bene Siamo giunti alla fine È giù È stato molto bello Più o meno Sì Molto Adesso come ci ritorno lì su? Mizzon Duell Non accetterò mai Ricordatevi di scrivervi Mi raccomando Sì, è la campanellina Cioè, almeno potete Non perdervi Nessun capolavoro D'arte contemporanea Quindi mi raccomando Esattamente Importantissimo, eh Non le potete fare a meno Assolutamente Davide, perché sei salito in macchina di uno sconosciuto? Mi ha offerto delle caramelle Nooo Perché? Ha fatto qualcosa di male È uno sconosciuto Bene Posso tirare un C4 davanti a noi Io lo faccio esplodere Alla prossima Ciao, ciao